Ciao a tutti, sono Veronica, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi faccio vedere un esperimento che ho fatto usando la vernice policrilica per la tecnica Bloom. Non ho usato il poliuretano come ho fatto nei miei video precedenti e l'effetto che ho ottenuto usando la vernice policrilica è effettivamente migliore. Costa un po' di più, però direi che ne vale la pena. La ricetta non è quella della Shelly Art. Sto solamente provando a fare delle prove, diciamo, usando dei prodotti che sono facili da reperire in Italia, su Amazon, su internet, senza dover spendere un capitale. L'effetto è praticamente identico. Quindi direi che si può fare. Nella descrizione del video trovate tutti i dettagli, la ricetta, i link ai prodotti che ho usato su Amazon e spero che questo video vi sia d'aiuto e d'ispirazione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per darmi un po' di sostegno e adesso buona visione! Grazie a tutti! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.